ciao e bentornato sul mio canale youtube oggi vediamo un esercizio di addominali alla sbarra veramente top per me allenare gli addominali alla sbarra gli altri RX è veramente il top qua sotto vi lascio una suite di prova della mia challenge addominale in sospensione ABX qui trovi anche questo esercizio di tanti altri altri RX comunque vediamo l'esercizio molto semplice molto semplice ovviamente per modo di dire di appendere la sbarra in questo modo qui incolli le scapole e fai a fare dei semicerchi prima da un lato e poi dall'altro ok allora l'esercizio correttamente devi tenere le scapole attive non come fanno molti scapole inattive quindi spalle passive che esistono poi di infortunare le spalle quindi guarda bene questo è sbagliato questo è corretto sbagliato corretto ok questo serve attivare bene le scapole e farsi di prevenire nel tempo quella sindrome del conflitto della spalla poi secondo dettaglio posizione del bacino guarda non così ma così sbagliato corretto ok devo andare a ruotare avanti da qui poi vado a fare quei movimenti semicircolari prima da un lato e poi dall'altro ti garantisco qui c'è l'addome lo senti appieno tutto allora lo posso vedere di nuovo fallo fattino e parto 1 2 3 e vado avanti vado a ruotare continuamente con le gambe ok questo è l'esercizio mi raccomando se hai dubbi o domande lascia un commento qua sotto rispondo volentierissimo quindi inserci questo esercizio nel tuo allenamento se poi vuoi una challenge già programmata di 12 settimane ti è fatta qua sotto trovi abix in descrizione noi ci vediamo nel prossimo video ciao mattia